E di essere stato invitato appunto a fare un po' la moderazione a questo incontro perché credo che sia il luogo che quello che ha detto Marco nella premessa sia anche lo stesso fatto che sono stato invitato io ad esserci, a moderare un po' la chiacchierata è una cosa abbastanza buona perché non è una discussione solo partitica ma si parla di politica con la P maiuscolo, no? Abbiamo questa bellissima location del Comune, cioè i luoghi della città e la discussione della politica io credo sia estremamente importante portarla nella città e confrontarsi per quello cercheremo di evitare di fare dei lunghi monologhi dove c'è una parte di pubblico e qualcuno che espone ma facciamo una chiacchierata nella quale poi spero voi siete pronti a farvi coinvolgere a partecipare, a chiedere e a chiedere un po' le idee su tematiche che in questi giorni sono molto discursi sono molto discursi, io queste tematiche mi seguo da sempre molto anche proprio come scrittore, cioè lo scrittore cerca di capire quando scrive dei romanti che cosa succede nella società, come posso descrivere le dinamiche di quello che veramente le persone stanno vivendo che cosa mi sta interessando e c'è